Buongiorno a tutti, sono Jacopo Zonzini, uno dei titolari di Zonzini Carrelli Saliscale. Il nostro obiettivo da sempre è quello di produrre i migliori saliscale elettrici al mondo, perciò solo quando siamo effettivamente soddisfatti di un prodotto lo presentiamo sul mercato. Oggi sono qui per raccontarvi il nostro nuovo saliscale elettrico modello Skipper. Skipper è uno dei primissimi saliscale cingolati prodotti al mondo e da quando è uscito ha rappresentato un vero e proprio punto di riferimento nel settore. Adesso questo riferimento si è spostato molto più in alto. Qual è il primo grande problema quando si trasportano su scale carichi molto alti, come ad esempio serramenti, lastre di vetro, divani o armadi. Proprio la mancanza di spazio sulla scala, che non consente di passare. Con Skipper, invece, si può posizionare il carico nell'inclinazione perfetta per riuscire a passare praticamente ovunque e grazie alle sue particolarità tecniche si può muovere il carico da soli e senza sforzi fisici. Vediamoli assieme. La forma dei cingoli con l'estremità posteriore inclinata rispetto al tratto principale consente di iniziare la scala senza fare alcuno sforzo. I cingoli con trazione indipendente permettono all'operatore di fare praticamente qualsiasi manovra, come rotazione 360 gradi, cambi di direzione, ma anche scale e liquidali o con gradini a piede d'oca. Grazie. 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 Anche se in commercio esistono altre tipologie di sali scale cingolati, nessuna di queste può vantare dei cingoli di qualità pari a quella dei cingoli zonzini. I cingoli zonzini, infatti, sono antitraccia e antiscivolo e consentono di operare con sicurezza sia sulle scale interne più delicate, come quelle in legno, in marmo o in parquet, sia all'esterno, in cantieri e scale non finite. Il carrello saliscale Skipper è il risultato di tutte le persone che ogni giorno in Zonzini mettono il loro impegno per sviluppare, progettare e costruire i migliori saliscali elettrici al mondo. Perché noi di Zonzini ci accontentiamo solo del meglio.